Dopo la pausa di fine dicembre e la commemorazione per i tre anni della tragedia si riaccendono i riflettori all'interno dell'aula numero uno del tribunale di Pescara che ospita ancora le fasi preliminari del doppio processo sul disastro dell'hotel Rigopiano dove persero la vita 29 persone. In apertura davanti al gruppo Gianluca Sarandrea il processo madre il quale conta 25 imputati. In questa fase come già annunciato nei giorni scorsi da apposita delibera la regione Abruzzo nella figura di Nicola Pisani si è costituita parte civile nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione dei dipendenti dell'ente depositando anche la richiesta di costituzione di responsabile civile rispetto alla quale tuttavia ha sollevato delle eccezioni riguardante l'intempestività delle notifiche. Ma la regione non è l'unico ente oggi ad entrare in scena perché anche la provincia di Pescara con il suo avvocato Guido Carlo Alleva si è costituita responsabile civile. Durante le fasi di appello è stato riscontrato un problema di notifica difetto dovuto al fatto che il decreto di citazione inviato ai responsabili civili nello specifico regione, presidenza del consiglio e ministro dell'interno è stato notificato in ritardo. Così il gruppo Gianluca Sarandrea ha deciso di rinviare la seduta al 27 marzo con grande rabbia e dispiacere da parte dei familiari. C'è delusione, c'è delusione di questo rinvio di due mesi perché comunque noi ci mettiamo l'anima, sono spese che noi continuiamo a portare avanti e molti avvocati vengono da fuori, c'è gente che si prende le ferie per venire qua e addirittura due mesi dopo ci sembra veramente un'ingiustizia questo. Speriamo che si velocizzi tutta la questione e non che venga perso tempo così ogni volta. Ecco, è scesa in campo anche la regione, anche la provincia, che idea vi siete fatti di questo e che cosa potrà portare poi al futuro del processo? E' una notizia che ci ha fatto rimanere un po' così sempre sconvolti, però vediamo quale sarà appunto l'iter che porterà quest'ente a chiedere addirittura i danni in questo processo. La procura, per voce del pubblico ministero Massimiliano Serpi, ha poi depositato un documento articolato dagli avvocati del sindaco di Farindola, Cristiana Valentini, Massimo Manieri e Goffredo Datozzi sulla richiesta della riapertura delle indagini per i vertici regionali. Figure queste archiviate all'inizio del mese di dicembre. Noi stessi avevamo portato dietro questa denuncia con tutti i suoi allegati, sono in circa 120 pagine con una serie di prove nuove, prove da un lato afferenti all'opera di depistaggio ma soprattutto prove per chiedere la riapertura del procedimento nei confronti degli organi regionali responsabili di aver tardivamente convocato il Comitato Operativo Regionale dell'Emergenza. Prove nuove quindi anche su questo aspetto, sulla responsabilità degli organi apicali della Regione per la mancata convocazione del core. Riteniamo che non si debba assolutamente rinviare né far tardare oltre questo processo che deve partire. Gli elementi di prova allo Stato sono tutti in atti, bisogna solo procedere. Si può procedere immediatamente integrando ulteriormente il processo con le figure che mancano. Anche il processo bis, quello del presunto depistaggio, è stato rinviato al 27 marzo con il gruppo Sarandrea che si è riservato la decisione in merito alla richiesta di ammissione in qualità di parte civile presentata dall'avvocato Reboa per conto di alcuni familiari. Ammissione questa già esclusa nella precedente udienza.